L'assessore regionale alle attività produttive Amaro Febo commenta le clamorose dichiarazioni del presidente uscente dell'Arap Leombroni pubblicate stamane dal quotidiano Il Centro. Nell'articolo del collega Lorenzo Colantonio, i contenuti per certi aspetti sconvolgenti della lettera che il presidente dimissionario di Arap, Giampiero Leombroni, ha inviato al presidente della regione Marsiglio e al presidente del consiglio regionale Sospiri. Alla vigilia della sua dimissione dall'incarico Leombroni parla senza mezzi termini di bilancio 2018 non veritiero su stato patrimoniale e conto economico. Leombroni dunque non si sottrae alla logica dello spoil system, comunica che dal 30 giugno si farà da parte, ma lo fa nel modo più fragoroso possibile, parlando di un debito di 6 milioni di euro, della mancata alienazione di due importanti immobili a Teramo, che avrebbe garantito un certo rientro, e di un bilancio d'esercizio relativo al 2018 praticamente falso, già sui tavoli, tra l'altro, di diversi istituti di credito. Leombroni parla anche di due distinte segnalazioni senza risposta, inviate il 14 marzo e il 10 aprile. La risposta, ed anche specifica invece, giunge dall'assessore regionale alle attività produttive Mauro Febo, intercettato all'assemblea ordinaria di Feder Manager Abruzzo e Molise, stamani a Pescara. Ricordo qualche tempo fa, è stato da me convocato in Commissione Vigilanza e mi parlava che andava tutto a gonvievele, che c'era il momento del rilancio, del boom di Arap, non so di quali progetti da portare avanti, poi leggo che solo il 13 giugno si accorge che va tutto male. C'è poco da dire, credo che forse il cambio di governo regionale gli ha dato fastidio, e quindi comincia a dare i numeri, io spero che se ne vada presto. Chiaramente le sue dichiarazioni saranno inoltrate a chi di dovere, perché mi sembra strano che una persona che ha gestito, come ho detto poco fa, per 5 anni, quasi in maniera assoluta l'Arap, con gli stessi dirigenti che hanno scritto il bilancio, gli stessi revisori che hanno verificato i bilanci, oggi denunci quelle cose. Intanto dal 1 luglio si volta a pagina, avete già qualche idea per sostituire Leombroni? Assolutamente sì, ci sarà un CDA nuovo fatto da tre membri di maggioranza e uno di minoranza, noi aspettiamo solamente il membro della minoranza per poter arrivare alla definizione. Credo che martedì 25 in sede di conferenze di capigruppo verrà fornito il nome, e quindi andremo subito a cambiare i vertici di Arab e dare una nuova svolta secondo quello che è il nostro indirizzo di governo.